Buongiorno Chiara Carofiglio, ben trovata, siamo domenica, l'ultimo giorno della Fiera Pest de Sarno qui a Londra, Olimpia Veni. È un piacere avere qui voi come rappresentanti dei Fisans, un importante sponsor di FIIP, anche per questa nuova iniziativa di uno stand nazionale alla Fiera di Londra. Chiara, dimmi subito le tue impressioni. Ciao Federico, grazie mille, innanzitutto siamo molto felici di essere qui alla Fiera con FIIP, quest'anno è un'iniziativa veramente molto interessante che dà un'opportunità a tutti gli associati di essere presenti a questa Fiera che ha comunque un occhio volto a un mercato internazionale. Siamo molto felici di essere qui con loro e ringrazio nuovamente FIIP a nome di Butta OVisa. Voi come OVisa siete già esperti di mercato internazionale perché operate se gli Stati Uniti sia nel mercato UK, quindi per voi non erano capitati. Londra di Monte rimane tra le varie edizioni della Fiera, quella più importante, la prima e la più strategica. In queste giornate avete avuto buoni contatti? Che tipo di feedback pregavano? Assolutamente sì, assolutamente sì, è stata un'ottima platea, moltissime persone interessate a trovare delle soluzioni sia come seconda casa sia come vestimento, quindi abbiamo notato molti interessi, molte persone inglesi che sono fatte per lo stand a chiedere informazioni. Benissimo, Chiara, il tempo è tirarlo, quindi ci dobbiamo salutare. Ti ringrazio nuovamente, ti auguro buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie. Grazie Federico e grazie Miaip.